La sorella di Alessandro Basciano lancia una pesante frecciatina a Sofì Codegoni. Cosa ha detto su Instagram? Cosa è successo fra Sofì Codegoni, Alessandro Basciano e la sorella di lui? Giorgia Nicole ha lanciato una pesante frecciatina alla ex atronista di Uomini e Donne. Perché? Ieri 12 maggio è stato il compleanno di Céline Blu Basciano, la figlia di Sofì e Alessandro. Non è ancora chiaro cosa stia succedendo fra loro, poiché dopo la rottura dello scorso ottobre, con annesse dichiarazioni di lei sui tradimenti di lui, i due sono stati visti insieme diverse volte. Il ritorno di Fiamma sembra essere ormai confermato, anche se i diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente o in pubblico. Comunque, alla festa di compleanno della loro bambina, Alessandro Basciano e Sofì Codegoni erano insieme, ma a quanto pare la sorella di lui non era presente. Quest'ultima, infatti, Via Social ha lanciato una pesante frecciatina a Sofì. Su Instagram Giorgia Nicole, ha condiviso le storie degli invitati alla festa della piccola Céline. Ma a far scalpore sono state le sue parole al vetriolo contro la fidanzata di suo fratello Alessandro. Cosa ha detto? Cosa ha detto la sorella di Alessandro Basciano su Sofì Codegoni? La sorella di Alessandro Basciano ha fatto gli auguri a sua nipote Céline tramite Instagram, ma le sue parole hanno scatenato un gran putiferio. Perché? L'interessata ha lanciato una pesantissima frecciatina a Sofì Codegoni, sostenendo che quest'ultima non abbia mai incluso i parenti da parte di padre nella vita della piccola. Ecco cosa ha scritto la sorella di Alessandro. Tanti auguri piccolina di zia. Anche se ti ho visto solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno. Sarai sempre nel mio cuore. Secondo le parole di Giorgia Nicole, quindi fra le famiglie Basciano e Codegoni, non scorrerebbe affatto buon sangue. Nonostante quindi fra Sofì e Alessandro sia tornato il sereno, le rispettive famiglie non si tollerano. Ma da quanto è che i parenti di lui non vedono la piccola Céline? Stando alle parole di Giorgia Nicole, sembra davvero un'eternità. Nel frattempo, comunque, sui social sono arrivati gli auguri di tutti per il giorno speciale della piccola. Gli auguri per il compleanno di Céline Blu, Alessandro Basciano, frecciatina di sua sorella a parte, su Instagram ha condiviso una foto in spiaggia con sua figlia Céline, e ha scritto queste parole. La gioia, l'amore, l'emozione di viverti ogni giorno. Buon primo compleanno dal tuo papà. Anche Sofì Codegoni, ovviamente, ha voluto augurare il meglio a sua figlia per il primo compleanno della sua vita. Ecco cosa leggiamo sul suo profilo. Buon compleanno vita mia. Come vola il tempo, un anno di te, un anno di noi, e ancora. Mi hanno sempre detto che l'amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma. Ricordo ancora la mille paura e le mille domande che mi facevo la prima volta che ti vidi. Sofì poi ha aggiunto. Ma giorno dopo giorno tu mi rassicuravi con i tuoi occhioni grandi grandi, e in un attimo mi facevi sentire la mamma che ho sempre sognato di essere? Infine, poi, la fidanzata di Basciano ha concluso dicendo. Sei speciale amore mio, così dolce e solare che riesci a strappare un sorriso a tutte le persone che stanno vicino a te, sei la bambina che ho sempre desiderato. Ti prometto che sarò sempre al tuo fianco, pronta a condividere con te ogni traguardo e ogni emozione. Grazie per aver reso la mia vita così meravigliosa. Ti amo oltre a tutto.